Metterò questo fazzoletto nell'alloggio di Cassio, in modo che lui lo trovi. Ups! Inezia, leggere come l'aria, sono per il geloso confermeforti, come l'evidenza delle sacre scritture. Da qui può nascere qualcosa, con il mio veleno, il muro sta già cambiando. Concetti pericolosi sono per loro natura veleni, che dal principio quasi non fanno disgusto, ma che se agiscono un po' sul sangue, bruciano come miniere di zolfo. Che vi avevo detto? Eccolo che viene. Né il papavero, né la mandragora, né tutti i sonniferi del mondo ti potranno guarire e ridarti quel dolce sonno che avevi ieri. Né il papavero, né la mandragora, né la mandragora, né la mandragora, né la mandragora. Né il papavero, né la mandragora, 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 né la mandrag Grazie a tutti. Grazie a tutti.